Le intercettazioni sono assolutamente indispensabili nella lotta contro la mafia e il terrorismo. Sono fondamentali per la ricerca della prova e per comprendere i movimenti di persone pericolose. Però bisogna cambiare radicalmente l'abuso che se ne fa per i reati minori con conseguente diffusione sulla stampa di segreti individuali e indimi che non hanno niente a che fare con le indagini. Il ministro parla di intercettazioni al centro della riforma della giustizia in cui verrebbero mantenute quasi esclusivamente per reati di mafia e terrorismo. Un'opzione che ha già provocato tensioni e polemiche con i magistrati. Per il ministro le intercettazioni sono elementi fondamentali per la ricerca della prova e sono ancora più fondamentali per comprendere i movimenti delle persone. Ma è chiaro che i mafiosi, a proseguito Nordio, non parlano per telefono dei loro programmi criminosi. Le intercettazioni servono ovviamente per capire con chi parlano, come si muovono e quali siano le loro problematiche. Sulla cattura del super boss latitante da 30 anni il guardasigilli ha detto È illusorio pensare che la mafia possa essere vinta perché si arresta qualche boss, anche il più pericoloso. È un fenomeno che va combattuto con un arsenale di armi e con una rivoluzione copernicana culturale. Nella lotta alla mafia si devono coniugare tecnologie e di questo fanno parte sicuramente le intercettazioni e il metodo Falcone. Una continua e ininterrotta analisi di dati finanziari, movimenti di denari, pedinamento e controllo che non può mai essere interrotto.